Vlog, sigla! Allora, come promesso in questi giorni mi sto scatenando con le recensioni, devo recensire ancora Judas and the Black Messiah, poi anche Maranis Blackbottom, se riesco recensirò Quella Notte a Miami, ma oggi voglio parlare di un film che è effettivamente candidato agli Oscar, seppur solo nella categoria Migliori Effetti Speciali, e lo trovate su Netflix. Mi finisco con il 2021 per la regia di Michael Matthews ed è Love and Monsters. In tanti mi avete chiesto di parlare di questo film, non potevo non farlo, non sono riuscito a recuperarlo subito appena uscito perché per l'appunto dovevo già guardare un sacco di cose, ho anche finito di guardare Le bizzarre avventure di Jojo, vento euro, quindi tra pochi giorni arriverà la recensione anche di quello, e quindi me lo sono guardato sabato sera con la Svet, e mi avevano detto che era molto simpatico, avevo visto il trailer e mi incuriosiva, mi sembrava una sorta di Zombieland ma con i mostri, ma non ero preparato ad un film di intrattenimento realizzato così tanto bene. Capisco perché sia stato candidato agli Oscar per gli effetti, perché effettivamente sono incredibili, alcuni sono digitali, altri sono tipo animatronics, ma pochi, sono per lo più digitali, però sono realizzati veramente bene. Sono realizzati bene perché innanzitutto i mostri hanno un aspetto, un concept design che è fenomenale, ma poi si integrano bene con l'ambiente circostante, reale, a parte un paio. In un paio di occasioni ho pensato questo effetto non è la cosa migliore, ma spero onestamente che possa vincere, perché è davvero tanta roba da quel punto di vista. Come film in sé, che dire, è divertentissimo. È un film divertente perché è una trama semplice, abbastanza lineare, con una storia di formazione, perché il protagonista è questo ragazzo interpretato a Dylan O'Brien, la star dei film di Maze Runner, un attore che lavora meno di quanto meriterebbe, a mio odesto parere, e che qui è stato veramente bravo, perché questo personaggio mi ha divertito un sacco. Il suo nome è Joel ed è questo povero Cristo che si è ritrovato nell'Apocalisse, e è bravo, volenteroso, ma non è sicuramente la persona a cui fideresti la sicurezza di chi sta intorno. Mentre tutti si sono dovuti indurire, diventare esperti di caccia e di difesa, perché per l'appunto ci troviamo in un mondo in cui i mostri hanno preso il sopravvento, e non vi dico il perché, ma la motivazione è tanto semplice quanto efficace, lui invece è rimasto un ragazzino spaventato, una persona che per quanto sia ben voluto da tutti è considerato un incapace, ed è brutto come cosa, e quindi il film è la storia di come lui, per un motivo sicuramente importante, perché comunque tutto quello che fa lo fa per ciò che muove, il mondo da sempre, ovvero la figa, ti mostrerà appunto come lui intraprende a questo viaggio di crescita personale, deve buttarsi nella realtà dopo anni e anni in cui ha cercato di rifugirla, mai affrontandola, e quindi è bello perché noi vediamo quello che c'è fuori dal bunker in cui vive il personaggio, con lui per la prima volta, perché lui non sa effettivamente come sia il mondo lì fuori. Al di là di quello che ha visto poco prima di rifugiarsi nel luogo dove poi sarebbe stato per anni, non è conscio di come il mondo sia cambiato in tutto quel tempo. Quindi è bello perché hanno usato una tecnica narrativa, secondo me, funzionalissima, ovvero mettere come protagonista una persona che vede le cose per la prima volta tanto quanto le vede lo spettatore. Quindi noi iniziamo a conoscere questo mondo ormai cambiato che non somiglia più a quello che conosciamo insieme a lui. E questo l'ho apprezzato tanto perché il mio stupore era il suo stupore e viceversa. Quindi ho apprezzato anche il modo in cui hanno deciso di costruire tutta la vicenda. Non aspettatevi chissà quale grande trama cerebrale, per l'amor del cielo, ma non penso neanche che fosse quella l'intenzione. L'intenzione era evidentemente quella di realizzare un film che fosse godibile e che, secondo me, doveva andare in sala. È la solita vecchia storia. Viene prodotto un film, ci sono problemi produttivi, non si sa se il film, la major, lo vuole andare in sala o meno, e poi ad un certo punto arriva Netflix che dice salve, lo compriamo noi. E quindi la Paramount, esattamente come era accaduto per il processo di Chicago 7, mi pare fosse Paramount, magari mi sbaglio, ma comunque la dinamica è stata la stessa, ha venduto il film per la distribuzione a Netflix. Non so se negli Stati Uniti America sia andato in sala, forse in qualche sala c'è andato, qua no, perché le sale sono chiuse, ma comunque è un po' un peccato averlo visto in televisione, perché questo, anche in virtù dei grandi effetti che mette in scena, sarebbe stato da guardare in sala. Però non importa. Non importa perché comunque me lo sono goduto alla grande ed è un film con alcuni personaggi che mi sono piaciuti. Al di là di Joel, che è un personaggio in cui mi medesimo molto, perché io sono sempre stato da tanti, da tutti, per l'amor del cielo, considerato un incapace per tanto tempo, e questo mi ha creato diversi problemi di autostima, perché io non sono una persona molto brava a livello di manualità, tipo, per me è già una sfida appendere un quadro, mi sento soddisfatto se riesco ad appendere senza sfondare il muro con chiodo e martello, mi riesce difficile anche solo montare il Lego, per dire, non sono un uomo d'azione, sono più un uomo di testa. E quindi vedere lui che pian piano cresceva mi ha ricordato me, che cercavo di dimostrare più che agli altri a me stesso, di saperle fare in fondo le cose, nonostante tutti mi considerassero in un certo modo. Per cui ho potuto empatizzare tanto con il buon Joel, ma ci sono anche altri personaggi, ad esempio il trailer punta tantissimo su due personaggi in particolare, uno che è interpretato da Michael Rooker e la ragazzina che viaggia con lui, che fondamentalmente ricordavano tanto Tallahassee, e anche un po' se vogliamo Joel e Ellie, perché siamo in Apocalisse, quindi della Stovas quando si pensa a Apocalisse è la prima cosa che viene in mente, ma se devo essere sincero, in realtà hanno una certa identità questi due personaggi, che però non compaiono per tutto il film. Sono fondamentali, perché è con loro che Joel impara tutto quello che è necessario per sopravvivere, e la cosa divertente è che nonostante non rimangano in scena per tutto il film, ma per una mezz'ora scarsa neanche, sono quelli che ti ricordi in maniera maggiore, perché Michael Rooker, che molti ricorderanno per aver rivestito i panni di Yondu nei due guardiani della galassia, ed è l'attore feticcio di James Gunn, infatti sarà anche in The Suicide Squad, che uscirà tra qualche mese, è stato molto bravo, è un attore comunque, secondo me caratteristico, e caratterista anche, è uno che riesce a impersonare il badass, in una maniera fantastica, forse anche proprio per questo suo aspetto, e infatti, diciamo che, nonostante sia un attore attivo da moltissimo tempo, il maggior successo, prima ancora dei guardiani della galassia, arrivò da The Walking Dead, dove interpretava Merle, il fratello di Daryl, nelle prime due stagioni, se non erro, personaggio molto interessante, tra l'altro, quindi ho apprezzato grandemente, il fatto che ci fosse lui, e il fatto che questo personaggio, abbia avuto così tanto peso, nella trama del film, e poi abbiamo anche Jessica Henwick, che interpreta Amy, che è l'interesse romantico del protagonista, una ragazza tosta, una che ha affrontato le cose, in maniera molto diversa, rispetto a Joel, e che la rende un personaggio, estremamente affascinante, anche lei non è che compaia per tutto il film, ma la sua presenza è costante, perché il personaggio non fa che pensare a lei, addirittura, c'è la sua voce narrante, che legge, in sostanza, queste lettere, che lui scrive, non spedisce ovviamente, perché non si possono spedire lettere, non esistono più postini e corrieri, e si rivolge direttamente a lei, quindi ci spiega delle cose, ma rivolgendosi alla sua amata, e questo rende più facile spiegare alcune cose, senza però che questa spiegazione sembri uno spiegone narrativo, di fatto lo è, ci sono tanti spiegoni, ma sono spiegoni perfettamente contestualizzati, e questo mi piace, e anche questo mi ha un po' ricordato Zombieland, all'inizio del film, lo ricordo un po', perché se tornate con la mente a Zombieland, la situazione ci veniva spiegata da Columbus, quando cita le sue regole, ecco, ci sono degli elementi, che ricordano un po' le regole di Zombieland, è inutile stare tanto lì, a girarci intorno, il film è fortemente ispirato a Zombieland, ma non solo, però non è una copia, semplicemente vuole essere un film cazzaro, ambientato nell'apocalisse, e quindi Zombieland è la prima fonte di ispirazione, che può venirti in mente, o quello, oppure Shaun of the Dead, ma quello era un po' più raffinato, secondo me, rispetto a Zombieland, aveva un umorismo molto diverso, era un film britannico, sapete che l'umorismo inglese, l'umorismo britannico, almeno secondo me, è tipo dieci anni avanti, rispetto all'umorismo statunitense, senza nulla togliere, allo humor, che può uscire da tanti film statunitensi, ma è quello che troviamo in Shaun of the Dead, di una raffinatezza unica nel suo genere, quindi è più simile a Zombieland, ma con una sua identità, anzi ha una incredibile identità, infatti io penso che ne tireranno fuori dei seguiti, perché sarebbe stupido non farlo, uno, perché il film è scritto con un finale, che è chiuso, ma potrebbe anche essere considerato aperto, diciamo che lascia spazio ai ventoi seguiti, e ti introduce un mondo che lo spettatore, almeno con me è stato così, ha voglia di vedere esplorato, hanno appena grattato la superficie, ci sono tantissime creature che ancora non ci hanno mostrato, che potrebbero mostrarci, quindi non vedo come mai non dovrebbero realizzare dei seguiti, anche perché il film su Netflix è andato da Dio, ed è ancora il primo posto, per quanto riguarda i film più guardati, praticamente in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile, per cui credo che il prossimo film sarà prodotto direttamente da Netflix, almeno così suppongo, e francamente se non lo dovessero fare mi chiederei ma perché, è una delle poche volte in cui penso qua un seguito è necessario, perché voglio vedere questo mondo esplorato, sarebbe addirittura bello a mio modesto parere, se creassero un universo espanso, libri, fumetti, perché è davvero interessante quello che raccontano in questa pellicola, e per l'appunto la protagonista femminile interpretata da Jesse Cainway, che è un personaggio, come dicevo prima, affascinante, e lei ha per l'appunto un ruolo, anche in questo caso fondamentale, ma credo che il mio personaggio preferito, e lo so sono un po' tenerone in questo, è Boy. Boy è un cane che il protagonista a un certo punto trova nelle sue peregrinazioni, ed è uno dei cani attori più belli del mondo. Viva i cani attori, e un po' meno viva, e anzi a basso, gli attori cani, che sono due cose differenti. Addestratissimo, bravissimo, io mi metto nei panni di Dylan O'Brien, se io avessi recitato in quel film, e fossi stato in Dylan O'Brien, probabilmente al momento della fine della ripresa, l'idea di separarmi dal cane, mi sarei messo a piangere come una cazzo di fontana. Poi io ho i flashback del Vietnam, quando penso a cani o animali in generale, in un contesto post-apocalittico, perché ragazzi, io non mi sono ancora ripreso dalla scena di Sam, in Io sono leggenda. Dite quello che volete, sento dire che quel film è una merda, una porcheria, distrugge l'opera di Matson, da cui è tratto alla base, e per l'amor del cielo, è vero, non è considerabile come un bel film, ma ero ragazzino quando l'ho visto, per la prima volta, e quando mettete zombie o infetti, io rimango abbastanza catturato, proprio dall'idea che sta alla base del tutto, per cui sono abbastanza facile da convincere, per cui anche se è un filmetto del cavolo, per me ha significato tanto, me lo sarò rivisto 50.000 volte, e quella scena mi tormenta ancora oggi, quindi quando ho visto che c'era questo cane, ho pensato, se fate qualcosa al cane, io veramente mi alzo e mi devado, e sono a casa mia, e questa è la cosa divertente, sono disposto a traslocare, ma il rapporto tra lui e il cane, è forse quello più bello dell'intero film, perché è un rapporto puro, vero, uno, l'uno ha bisogno dell'altro, e viceversa, è bellissimo, il cane, ti dà amore incondizionato, e in questa situazione, questo cane, è anche poi una caratterizzazione, voi direte, la caratterizzazione del cane, si ce l'ha, ha una caratterizzazione, che mi è piaciuta tantissimo, l'ho trovato proprio, un personaggio simpatico, sempre pronto ad aiutare, ma, con un passato, che lo rende malinconico, vedete, ma stai parlando di un cane, esatto, rendetevi conto, come con pochi, semplici elementi, siano riusciti, effettivamente, e inequivocabilmente, a caratterizzare, un cane, e questa per me, è la cosa più geniale, del film, senza contare, che i mostri, non ti risbattono, in faccia, di continuo, ci sono, nei momenti, giusti, li vedi solo, quando è necessario, e poi io adoro, quella narrazione, semplice, in cui, un personaggio, gli dice qualcosa, tu magari, ti dimentichi, che è stata detta quella cosa, e tornerà utile, più avanti, esattamente, quello che dicevo prima, il protagonista, impara le cose, insieme a te spettatore, e quando ha un'intuizione, è la stessa intuizione, che magari, e tu, in quel momento, e dici, ma aspetta, ma non è stato detto che, e un secondo dopo, il protagonista, si accorge di quella cosa, è bellissimo, non è semplice, creare un'immedesimazione tale, con un personaggio, ragazzi, è una cosa più facile, nei videogiochi, ad esempio, perché molti personaggi, nei videogiochi, adesso succede di meno, ma ogni tanto accade ancora, hanno, magari, una personalità, poco, sviluppata, e ha malapena abbozzata, perché, quel personaggio, sei tu, in quel momento, sei tu giocatore, quel personaggio, Link, nei videogiochi di Zelda, molto spesso, non è particolarmente, approfondito, tranne in alcuni casi, in Breath of the Wild, è già più approfondito, però, molto spesso, non parlava più di tanto, così come anche, nei giochi Pokemon, perché, perché quel personaggio, sei tu, io ricordo, i vecchi giochi di Harry Potter, per la Playstation, per la prima Playstation, nonostante fosse Harry Potter, e nonostante fosse protagonista, lui non parlava mai, perché, perché in quel momento, sei tu, a interpretare Harry Potter, e quindi, evitavano di, farlo parare troppo, stessa cosa, per giochi come Bioshock, già nell'Infinite, era diversa la cosa, poi ci sono giochi, più cinematografici, in cui personaggi, protagonisti, hanno, una caratterizzazione incredibile, come ad esempio, i giochi di Kojima, da Metal Gear, sia i primi, che i solid, anche Death Stranding, ce ne sono tanti, però, ce ne sono tanti altri, che magari, sono il personaggio, in prima persona, e l'infinite, è ancora più grande, no? Ad esempio, ieri, ho giocato alla demo, di Resident Evil Village, mi sono reso conto, che Ethan, già protagonista del settimo, qui, sembra avere, un carattere, un pochino, più, approfondito, almeno, ha delle reazioni umane, nel sette, gli tagliavano una mano, e gli ricucivano, con una spillatrice, e non faceva un plissier, tirava un urletto, e basta, non è che, si preoccupava del fatto, che avessero staccato una mano, e si chiedeva, come cazzo fosse possibile, che, riattaccandola, con i punti metallici, della spillatrice, potesse ancora utilizzarla, però, è un videogioco, sono cose che possiamo, tranquillamente accettare, però, per dire, che, l'immedesimazione, spesso viene favorita, in questo modo, in un film, è già più difficile, perché in un film, se un protagonista, non ha una buona caratterizzazione, il film, rischia di non funzionare, poi dipende dal film che è, in questo caso, hanno fatto molto bene, a prendere una persona, ignara di tutto, esattamente come lo spettatore, e a farlo andare, di pari passo, con chi guarda, ecco, lì, hai centrato, completamente il punto, e io, ho apprezzato molto, tutto questo, poi ci sono anche, dei personaggi, che compaiono nel finale, che non sono niente male, e sono contento, che comunque, abbiano in generale, inserito, diverse, diversi ostacoli, i mostri, l'ambiente impervio, e poi, c'è la solita questione, del fatto che, quando, gli esseri umani, sono messi alle strette, tu non sai mai, come possono reagire, e quindi, è un discorso, che viene fatto, in tutte le opere, post apocalittiche, contemporanea, in The Walking Dead, a un certo punto, deve passare il messaggio, che forse, sono peggio, gli esseri umani, degli zombie, stessa cosa, in The Last of Us, sono peggio, gli esseri umani, degli infetti, del fungo, che ha infettato il mondo, anche perché, qua, c'è una corrispondenza, ad esempio, con un, The Last of Us, forse anche di più, perché, quando tu vedi mostri, non pensi, figli di, maledetti bastardi, sono animali ragazzi, anzi, se vogliamo stare a guardare, sono delle povere vittime, se pensiamo, a come, si sono, effettivamente, trasformati, in quel modo, questo è, cioè, capite che, io rimango, un attimino, così, perché, per quanto tu possa, incazzarti con i mostri, i mostri, non hanno colpa, sono animali, quello che pensavo, ogni tanto, con The Last of Us, alla fine, tu sai, pensi, infetti, morite, astare, ecco, ma, in realtà, gli infetti, sono così, perché c'è un fungo, che ha preso possesso, il loro cervello, benissimo, il fungo, non è cattivo, è una creatura vivente, molto semplice, non è neanche in grado, in realtà, di pensare, che fa l'unica cosa, che deve fare, ovvero, espandersi, crescere, riprodursi, questo è, è la natura, è la natura, che a un certo punto, si è rivoltata, e l'essere umano, è sceso, nella catena alimentare, è sceso, più in basso, però alla fine, è la natura, c'è capito, non è, sono più pericolosi, gli esseri umani, eh, quello sì, perché lì decidi, di fare certe cose terribili, e quindi, l'ho trovato un film, che mi ha fatto anche, riflettere, in un certo senso, quindi, mi è piaciuto, mi è piaciuto, l'ho apprezzato, una bella colonna sonora, tra l'altro, mi è piaciuta, la regia, la regia, mi è piaciuta, perché le scene, di combattimento, le scene action, sono dirette bene, cioè, è un film diretto, con mestiere, cosa significa, un film diretto, con mestiere, allora, l'autore, è colui che, nella regia, nella costruzione, delle scene, delle inquadrature, nel mostrarti, raccontarti la storia, ci mette un'impronta, molto personale, ha un suo stile specifico, il mestierante, è colui che, sa fare bene, il mestiere, è un regista, che, sa utilizzare bene, le proprie conoscenze, sa muovere, e far muovere, agli operatori, bene, la macchina da presa, sa dirigere, in maniera decente, gli attori, un mestierante, l'altra sera, mi sono riguardato, Captain America, il primo vendicatore, non lo riguardavo, da una vita, l'avevo visto, una volta sola in sala, erano dieci anni, che non lo guardavo, mi sono sorpreso, a vedere, quanto fosse, diretto, con mestiere, non ha una regia, che ti fa pensare, oh la la, che film della madonna, ma è una regia, degna di trenome, dici, oh, ma non è diretto male, è diretto, con una certa perizia, da Joe Johnston, già regista, dei Jumanji, che comunque, il primo, quello con Robin Williams, che comunque, è un bravo mestierante, e questo Michael Matthews, non sarà, questo gran registrone, ma è un bravissimo mestierante, uno di quelli che, ti sanno far bene il compitino, e vanno magari, anche leggermente oltre, al semplice compitino, ti creano un film completo, ad esempio, un altro mestierante, che secondo me, non è bravo, come un Michael Matthews, o un Joe Johnston, è David Yates, David Yates, è uno che, quando gli dicono, salta, lui ti chiede, sì, ma quanto in alto, cioè, la Warner dice, devi fare così il film, ma lui lo fa così, non è un regista particolarmente bravo, un Michael Matthews, invece, è uno che, ti fa un film come Love and Monsters, non ti crea, il capolavoro, perché neanche vuole esserlo, ti crea, un buonissimo film di intrattenimento, per adulti, e per ragazzi, è un film che va bene per, magari per un bambino piccolo, no, perché i mostri sono spaventosi, ma un ragazzo, un ragazzino, si diverte tantissimo, un adulto impazzisce, pieno di citazioni, altre opere post-apocalittiche, si vede che c'è un po' di Dastovas, si vede che c'è tanto di Zombieland, si vede, si vede proprio che si sono divertiti, peraltro, mi piace molto quello che fa il personaggio, perché se Columbus aveva le sue regole, invece, Joel fa un'altra cosa, che peraltro, a me ha ricordato tanto anche Guardiani della Galassia, c'è anche un po' il verso a quello, la presenza di Michael Rooker, poi, mi toglie ogni dubbio, mi piace, mi piace e si torna anche all'idea, di una certa forma di trasmissione dell'antichità, insomma, poi adesso vi spiegano la parte spoiler, ma è proprio un film carino, io l'ho trovato davvero, davvero tanto carino e divertente, e dura un paio d'ore piene, io vi giuro, arrivato alla fine ho pensato, no ma è già finito, io l'avevo guardato per altre tre ore, perché è proprio interessante quello che ti mostra, è bello quello che vedi, poi, una cosa la posso dire, come tutti i film non è perfetto, secondo me, si arriva verso il finale in maniera leggerissimamente brusca, mi aspettavo che si arrivasse in maniera un pochino più organica, va bene così, per l'amore del cielo, non è che mi lamenti, però, magari un minimo di organicità in più, cioè, cosa intendo per organicità? non mi sembra naturale che si vada verso la parte finale, non proprio il finale, ma poi gli ultimi 20 minuti, mezz'ora, in quel modo lì, è un po' brusco il passaggio tra lui che viaggia e lui che raggiunge la meta, quindi, un attimino l'avrei preferito diverso, per l'amore del cielo, però, non è che si è messa in scena male quella cosa, c'è un espediente narrativo per cui riescono a fartelo arrivare alla meta, ma non è uno spoiler perché voglio dire, ragazzi, è una cosa molto semplice, non è il se arriva alla meta o no, è il cosa succede quando arriva lì, che è un altro discorso, ma, al di là di questo, il film ha un buon ritmo, ma avrei approfondito leggermente di più altri personaggi, ci sono dei personaggi che per il protagonista sono importanti, che secondo me sarebbero stati un pochino più da approfondire, per darci anche un po' più la dimensione di quello che lui prova per loro, perché è importante quello che lui prova per loro, attenzione, è estremamente importante, quindi, mi sarebbe piaciuto che il regista, che poi lo sceneggiatore è Brian Duffield, che non è il regista, che è anche colui che ha creato il soggetto, mi sarebbe piaciuto magari che lavorasse un po' più su questo, poi, certo, il film vuole raccontarti la storia e l'informazione di Joel, e quindi, certi elementi sono un attimino messi in secondo piano, questo è il motivo per cui mi piacerebbe da morire, vedere un seguito, perché ci sono dei personaggi che secondo me avevano del potenziale, e che mi sarebbe piaciuto vedere esplorati, non mi è dispiaciuto neanche l'utilizzo del flashback, che non è mai troppo invasivo, e anche lì avrei voluto vedere, più nello specifico, certe cose che ci sono solo vagamente raccontate, chissà che più avanti, in un eventuale nuovo film, che ancora non è stato annunciato se non sbaglio, non ce ne mostro in maniera un pochino più diretta, anche perché poi, un seguito tu, non sei per forza costretto a farlo con ancora Joel come protagonista, Joel può essere un personaggio che a un certo punto arriva, ma non deve essere necessariamente il protagonista assoluto, può essere un'altra storia, mettate in questo mondo, magari in un altro momento, e poi si collega a ciò che abbiamo visto nel film precedente, perché no, tra l'altro, faccio notare, prima ho detto che c'è un po' di ispirazione a The Last of Us, io non credo che il fatto che il protagonista si chiami Joel, sia un caso, penso che ci sia un motivo ben specifico, penso che sia proprio un riferimento al Joel di The Last of Us, ma ci sta anche, per l'amore del cielo, quindi, è un film ben confezionato, con un buon lato tecnico, una buona sceneggiatura, e fa esattamente quello che si era prefissato di fare, ovvero, intrattenere in maniera simpatica, per circa due ore, lo spettatore, facendogli sperare che il film duri di più, io quando ho visto che il cursore stava arrivando alla sua fine, ho detto, ma io voglio saperne di più, io voglio saperne di più, voglio vederne ancora, porca puttana, quindi, il risultato è, senza ombra di dubbio, ottimo, perché se un film ti dà queste sensazioni, significa, che allora ha centrato perfettamente il punto, quindi, detto questo, vi chiedo, descrivo un contenitore sotto, cosa ne pensate voi, vi è piaciuto Love and Monsters, lo avete apprezzato, io ho sentito dire quasi solo cose buone, tranne poi, qualcuno che è arrivato a dire, sì ma è un filmetto del cazzo, vabbè, ho capito, ma cosa ti aspettavi, un film con un tizio che, per la gnocca, prende, esce nell'apocalisse con i mosti, che cazzo ti aspettavi, Shakespeare, cioè voglio dire, bisogna anche contestualizzare la visione di un film, quando ci si approccia, perché se tu guardi Love and Monsters, e ti aspetti un film profondo, ma lo vedi dal trailer, che è un film cazzaro, e che è di base una semi horror comedy, quindi, di che stiamo parlando, comunque sia, ogni parere ben accetto, anche se la pensate in quel modo, ci mancherebbe altro, rispetto alla vostra opinione, se fate spoiler, mi raccomando, nei commenti, mi raccomando, avvisate, inserendo la dicitura spoiler, prima dell'inizio del commento, quindi vi abbraccio, grazie mille, per aver seguito tanto, ma tanto, ma tanto bene, noi ci vediamo al prossimo movieblog, se il film non l'avete visto, se invece, il film non l'avete visto, e per te sapere nello specifico, gli spoiler, iniziano tra 3, 2, 1, Allora, a me è piaciuto molto il fatto che, Joel all'inizio del film, racconti attraverso i suoi disegni, quello che è successo, ed è bella, è interessante come idea, cioè, un asteroide stava per colpire la Terra, gli eserciti del mondo, l'hanno bombardato con gli missi nucleari, che effettivamente hanno distrutto l'asteroide, questo meteorite, che non ha distrutto la Terra, peccato che tutte le scorie radioattive, che sono piovute, pian piano sulla Terra, tornando indietro dai missili, hanno mutato tutti gli insetti, le creature acquatiche del pianeta, che sono diventate creature mostruose, e quindi la natura è stata alterata, la biosfera è cambiata, e gli esseri umani sono scesi, all'ultimo posto della catena alimentare, e quindi vivono tutti nei bunker, Joel, che aveva una ragazza di cui era innamorato, Amy si trova improvvisamente da solo, senza la famiglia, ma avendo acquisito nuovi amici, che sono diventati con lui come una famiglia, le persone che sono all'interno del bunker, e fondamentalmente, lui è considerato, come dicevo, un incapace, quindi a un certo punto, riesce a trovare la colonia di Amy, che è a 130 km di distanza, e si mette in testa di andare da lei, perché è innamorato di lei, ma non è che le dice questa cosa, lui prende e va, i personaggi che avrei voluto vedere esplorati meglio, sono proprio gli abitanti della colonia di Joel, a cui lui è molto affezionato, e addirittura a un certo punto torna indietro per loro, il fatto è che, sono effettivamente interessanti, a livello superficiale, ma non molto esplorati, perché non era il loro film, loro sono dei personaggi di contorno, ma mi sarebbe piaciuto, vederli un pochino più approfonditi, mi avrebbe divertito tantissimo, ne sono convinto, quindi cosa succede? Che quando Joel esce, lì inizia l'esplorazione vera e propria, e siamo noi, cioè, ti fa per la prima mezz'ora, un discorso di contesto, sai cosa puoi aspettarti, ti fa vedere uno di quei mostri, che entrano nel bunker, una specie di formicone, nemmeno tra i più grandi, che viene ammazzato, Joel si paralizza per la paura, e capiamo che questo viaggio sarà difficile per lui, tant'è vero che quando lui esce, tutti quelli della colonia dicono, dai Joel mi raccomando, non farti divorare, mi raccomando, perché loro sono convinti che questo muore, perché effettivamente, per come lo vedi in inizio del film, non sembra molto del mestiere, poi incontro questo rospo gigante, che quello è uno dei pochi effetti, che non mi hanno convinto più di tanto, però il formicone, il masticone, la lumacona, il granchio alla fine, quelli mi sono piaciuti un sacco, il millepiedi, che incontra nel campeggio abbandonato, è spettacolare, ha degli effetti, questo film che sono incredibili, è bello che quando lui incontra, il personaggio Michael Rooker, la ragazzina, nel giro di poco inizia a capire, quello che deve fare, e lui sta creando un bestiario, ogni mostro che vede lo disegna, e scrive punti deboli, caratteristiche, tutto quello che impara, e il personaggio Michael Rooker, pian piano, inizia a insegnare delle cose importanti, e una cosa che adora, è che questi insegnamenti tornano, quando lui è in situazioni di pericolo, ad esempio, quando alla fine c'è il granchio gigante, e questa cosa è bella, perché anche io, ma anche io la svetta, abbiamo pensato subito, perché c'è questo momento in cui vedi il granchio, e la prima cosa che ho pensato è, oh ma che occhi tristi che ha, e mi è venuto subito in mente, quello che dice Michael Rooker, quando vedono la lumaca, quando dice a Joel, non tutti i mostri sono cattivi, ci sono mostri che sono tranquilli, che sono buoni, non sono aggressivi, e allora, cattivi, uso cattivi per comodità, ma non tutti i mostri sono feroci, aggressivi che vogliono mangiarti, alcuni sono tranquilli, e allora Joel dice, da cosa lo capisci? Dagli occhi, e nel momento in cui lui vede il granchio, gli occhi del granchio, abbiamo pensato, sì io, cazzo ma, ha gli occhi tristi, e ci è venuto in mente, ma quindi non è cattivo, e infatti, quello che viene in mente, secondo me, è un personaggio che spara la catena, lo libera, e lo manda a uccidere, i bastardi dello yacht, che sono dei cattivi, non caratterizzati, perché hanno solo la funzione, di far vedere, che anche gli esseri umani, possono essere pericolosi, ovviamente, però, è bello come ad esempio, a un certo punto, gli arriva la roba da mangiare, da parte di Cap, del cattivo, il capitano dello yacht, lui fa per prendere la bacca, e si ricorda, che è la bacca, che aveva, che il cane, poi, gli aveva impedito di mangiare, iniziando ad abbaiare, e allora lui capisce, che probabilmente, lo hanno fatto apposta, e stanno cercando di avvelenarlo, quindi tutto lo scontro finale, con loro, che riescono a, liberare il granchione, che va poi, dal tizio dello yacht, dai tizi dello yacht, a mangiarseli, perché lo hanno schiavizzato, per far andare la barca, lo usavano come animale da soma, sostanzialmente, ecco, quella scena è molto bella, poi, è anche bello il fatto, che è realistica, è abbastanza realistica in questo, quando lui va là, io per tutti i film pensavo, ma lui, non ha pensato, che lei magari è un ragazzo, cioè, boh, quando lui va là, lei, gli fa capire, che uno, ha troppe responsabilità, e due, è stata, fino all'anno prima, con una persona, che amava, che probabilmente è morta, per via di un attacco, da parte di mostri, e allora lui dice, cavolo, ma sono proprio uno stupido, io non mi sono neanche chiesto, se tu mi volessi qui, quindi lui, l'accetta con filosofia, alla fine però, dopo tutto quello scontro, i due si baciano, lui va dalla sua colonia, e gli dice, ti troverò, cioè, non è il momento giusto, probabilmente potrebbero finire insieme, ma non è quel momento, lui torna alla colonia, che ormai non è sicura, perché il bunker, è continuamente attaccato dai mostri, e decido di andare verso le montagne, registra questo messaggio, che manda tutte le persone, che avviano la radio, dicendo, non dovete arrendervi, possiamo vivere in superficie, non dobbiamo stare nascosti, in delle buche, non è la soluzione, è interessante come messaggio, forse un po' sconsiderato, perché ci sono persone, che probabilmente escono, e non tornano più, però comunque mi piace, un messaggio di speranza, per far capire, che l'umanità, non è finita, semplicemente, come diceva Stephen King, tramite la bocca di uno dei suoi personaggi, nel nome dello scorpione, l'umanità non è finita, si è solo presa una pausa, questo concetto mi è sempre piaciuto tanto, quindi lui va là, torna alla colonia, e cercando a andare alle montagne, a cercare, per appunto, Michael Rook e la ragazzina, che intanto si sono insediati lì, e il film finisce con loro, che dicono, secondo me, viene mangiato dai ragni delle nevi, anche lì, io li voglio vedere, questi ragni delle nevi, fatemeli vedere, datemeli, io li accetto volentieri, una delle mie scene preferite, a parte quella di lui, che salva il cane boy, nel, nel, dal millepiedi, nel cappeggio abbandonato, è quella con la Mavis, perché si parla di questi robot, Mavis, che lui non ha mai visto attivi, ne trova un'attiva, ancora per poco, con la quale può aprirsi, racconta la morte dei genitori, lei fa apparire, sul suo schermo, che ha per volto, la madre, e c'è lui, che abbraccia la madre, la abbraccia lei, con la faccia della madre, per sentirsi un po' meglio, e dice, mi dispiace, per quello che è successo, perché i genitori, erano rimasti bloccati, insieme a lui in auto, perché questo insettone, aveva bloccato l'auto, e ha detto, scendi, lui è riuscito a scendere, e le altre portiere erano bloccate, e l'insettone ha schiacciato l'automobile, uccidendoli, quindi anche questo, è un momento, secondo me, molto toccante, ha dei momenti, che sono commoventi, a mio modesto parere, e la scena, con Stand By Me, che viene, per appunto, diffuso dalle casse di Mavis, con le meduse volanti, luminose, innocue, è bellissima, è veramente, una scena fantastica, è un film, che ha tanti momenti interessanti, come anche quello, con la regina, dei Solcaterra, che è praticamente, lo squalo di terra, con la pinna, è la scena di lui, che lancia la bomba, e la fa esplodere, e poi mi piace molto, questa cosa di Boy, che è affezionato, alla vecchia padrona, e non lascia mai, questo vestito, che le appartiene, tant'è vero, che, non ce l'ha dovuto, mettere in pericolo, Joel, per salvare il vestito, perché è affezionato, a quell'oggetto, questa è una caratterizzazione, di un animale, che effettivamente funziona, quindi, queste erano, le scene, che mi hanno compiuto di più, di Love and Monsters, che sono le vostre, mi raccomando, sempre inserire, la dicitura spoiler, se fate spoiler, io vi abbraccio, grazie a tutti tanto, va tanto, va tanto bene, e noi ci vediamo, al prossimo, Boy Vlog, ciao a tutti, Grazie.